In macchina, quelli con le Porsche e le Maserati, sono come settantenni che hanno scoperto il Viagra. Quando scatta il verde, al semaforo, bruciano i copertoni come in Fast & Furious, come se stessero su un aereo, su una pista di decollo, cento metri dopo si fermano al semaforo. Sono meravigliosi, sono piloti di Formula 1 part time, tra un semaforo e l'altro. Si fermano alla stazione di servizio con le Ferrari, con le Porsche e compagnia bella, come se dovessero fare un pit stop. Mi dispiace, dice il benzinaio, la benzina è esaurita. Ma come è esaurita? Come è esaurita? Io pago, io pago, io pago. Bene, se ne deduce che la benzina non è l'unica cosa esaurita della situazione.